Sì Valentina, io sono Ilaria Stagni, sono una doppiatrice, ma oggi vi parlo come presidente delle Voci del Cuore, che è la nostra onlus fondata con tutti i colleghi miei doppiatori. E io ti do carta bianca. Che cos'è questa? È una mascherina. E la novità è? La novità è che uno dobbiamo mettercela, secondo dobbiamo restare a casa. Questo è poco ma sicuro. In questo momento è importante essere tutti uniti e fare un piccolo sacrificio che però serve per tutti, per la comunità. Altre due novità sono che le Voci del Cuore stanno aiutando lo Spallanzani ed è partita una campagna per sensibilizzare le persone a donare per lo Spallanzani, perché lo Spallanzani è un grande ospedale che ha delle terapie intensive ma purtroppo sono finiti i respiratori. Per cui dobbiamo raccogliere dei soldini per donare loro dei respiratori. E tutti i miei colleghi e amici stanno cercando di aiutarli così, come facciamo noi. È una campagna che si chiama Io sono una voce per lo Spallanzani. La seconda novità è che le Voci del Cuore hanno aperto un canale su YouTube per tutti i bambini, perché noi andiamo a trovare generalmente dei bambini nei reparti che però adesso non si può fare ovviamente, però aveva ragioni. E questo canale è libero. Tutti voi potete andare sul canale delle Voci del Cuore su YouTube e vedere delle favole che noi doppiatori stiamo leggendo per voi. Tra l'altro tra poco ce ne saranno anche altre in inglese, in spagnolo, in tedesco, in francese. Ci stiamo dando da fare. Un bacio. Ciao e restate a casa e donate per lo Spallanzani. Grazie.